Stacca, stacca, stacca Stacca, stacca Due belle video per... Ehi, all'ultimo pezzo dobbiamo fare un bel video Ehi, all'ultimo pezzo dobbiamo fare un bel video Cioè, questi pezzi sembri che non sembri No, è bellissimo No, no, perché mi tratti così, Antonio? No, no, non ci passa Perché mi tratti così? Perché mi tratti così? Io sono così bravo No, no, no Ehi, all'ultimo pezzo